Il San Nicolo rallenta la corsa della Maceratese come all'andata la formazione di Massimo Epifani apparsa nuovamente indigesta alla capolista ma a differenza di un girone fa con i marchigiani che riuscirono ad imporsi con un gol di D'Antoni dopo pochi minuti dal fischio d'inizio questa volta i biancazzurri hanno imposto il pari all'Elvia Recina meritando ampiamente il punto conquistato contro l'unica formazione che dalla Serie A alla Serie D non ha ancora conosciuto il sapore amaro della sconfitta poco pubblico sugli spalti complici le telecamere di Rai Sport che impongono il fischio d'inizio alle 14 tra i padroni di casa si rivede Romano mentre Ferrimarini è solo in panchina per onore di firma ma le sue condizioni non sono delle migliori tra gli abruzzesi non c'è lo squalificato Petronio la gara è gradevole soprattutto nel primo tempo quando le due squadre cercano la via della rete al quarto la punizione di Villanova mette Cuco in condizioni di andare al tiro ma la sfera termina sul fondo poi è il San Nicolò che nell'arco di una manciata di secondi sfiora la rete prima con Stivaletta e poi con Moretti quest'ultimo alla fine risulterà tra i migliori in campo grande corsa e spesso spina nel fianco della retroguardia biancorossa la partita è equilibrata con gli ospiti che confermano ancora una volta di giocare a viso aperto con chiunque al diciassettesimo Croce ci prova su punizione ma non inquadra il bersaglio grande e poco dopo arriva la risposta dell'undici di Massimo Epifani poco prima della mezz'ora la gara vive di fiammate ma entrambe le porte restano inviolate nella ripresa entrambe le formazioni si ripresentano con gli stessi 22 che avevano chiuso la prima frazione di gara per assistere al primo pericolo bisognerà aspettare il diciannovesimo quando Cuco ci prova dalla distanza ma senza fortuna i due allenatori decidono quindi di operare qualche cambio nella maceratese fuori Villanova e dentro Petti Maggi ridisegna l'assetto dei suoi con un 4-4-2 ma il ritmo partita non cambia anche perché il San Nicolò è bravo a spezzare sul nascere le azioni dei padroni di casa andando a pressare quasi nella tre quarti avversaria il pubblico protesta quando in almeno un paio di circostanze vengono segnalati dei fuorigioco piuttosto dubbi a danno dei locali al 38esimo Mischione in area biancazzurra ma di Gifico mantiene inviolata la porta Maggi gioca la carta a Belkaid anche lui non al meglio della condizione al 45esimo Punizione dai 25 metri che si incarica di calciare proprio Belkaid Romano rifila probabilmente un colpo proibito ad un uomo in barriera Rosso diretto è per lui il rischio ora di tre giornate di squalifica termina 0-0 un punto tutto sommato utile alla maceratese che conserva l'imbattibilità contro un avversario di tutto rispetto che se avesse vinto qualche partita in più oggi forse lotterebbe quantomeno per una piazza d'onore Oggi volevo dalla mia squadra il fatto di giocare bene di fare una grande prova a livello di compattezza e la squadra l'ha fatto sotto tutti i punti di vista siamo stati bravi anzi bravissimi perché venire qui a macerata a giocare senza avviso aperto come abbiamo fatto su tutti i campi dove una squadra in casa ha fatto sempre benissimo sono contentissimo per i miei ragazzi voglio della mia squadra che gioca sempre che ha una sua ben precisa identità senza aver paura dell'avversario rispettandola ma senza aver paura non ho mai cambiato assolutamente niente perché credo in quello che faccio e la squadra la fa veramente in maniera impeccabile rispettandola ma senza aver paura dell'avversario è difficile da fare un'avversario rispettandola ma senza aver paura di più rispettandola ma senza aver paura di più rispettandola ma senza aver paura di più